per una indisponibilità dell'ultimo minuto del Presidente Ippolito, dare un saluto e un augurio a tutti i partecipanti a nome della Fondazione Lelio e Lisley Basso. Ci avviciniamo ormai a compiere i 15 anni della Scuola di Buona Politica e certamente ci sarebbe piaciuto che anche quest'anno, queste giornate fossero contrassegnate da uno scambio reale e non mediato dalle tecnologie informatiche, uno scambio che rende sicuramente più autentiche le emozioni e anche più fruttuoso l'apprendimento. E questa cosa ce la ricordano ogni giorno migliaia di giovani che hanno vissuto e vivono ormai con grande disagio e anche con insofferenza nelle scuole superiori e nelle nostre università la cosiddetta didattica a distanza. Siamo ben consapevoli di queste difficoltà e saremo certamente fra i primi, non appena le condizioni obiettive lo permetteranno, di tornare in presenza nella nostra sede. Quello che la pandemia e le difficoltà connesse con questa congiuntura non ci possono togliere, nemmeno in questa circostanza, è la qualità però del nostro progetto formativo, che si avvale per tradizioni consolidate di professionalità altissime che per pura e gratuita militanza intellettuale spendono tempo ed energie per far vivere questa scuola della buona politica. Anche quest'anno la direzione di Laura Pennacchi, avvalendosi delle necessarie collaborazioni interne e esterne alla fondazione, ha progettato un itinerario formativo incentrato su taluni aspetti problematici delle democrazie contemporanee, con le finalità di sempre rispettare la dignità della politica e quindi rendere la cittadinanza nello spazio pubblico un circuito virtuoso di diritti e doveri. E permettetemi in conclusione che l'augurio di un buono e proficuo lavoro si è accompagnato da un ricordo personale proprio di Lelio Basso, il fondatore, con il quale ho avuto il privilegio di lavorare per cinque anni dal 73 al 77. Quando concepì l'idea della fondazione poi istituita nel 74, la motivava così «Io sono stato uno che ha perso politicamente e deve dare ragione di questa sconfitta». e ammoniva quanto occorresse aver chiaro l'intreccio fra la concezione teorica e la pratica della politica, vista come mezzo in grado di intervenire all'idello di formazione delle coscienze delle persone. Misuriamo ciascuno di noi l'abisso che c'è tra la dignità profetica di quelle parole e la miseria dei giorni presenti. Buon lavoro a tutti, la parola a Laura. Grazie Fausto per le tue belle parole. Mi sentite? Sì, sì. Sì, ecco. Allora, anche quest'anno non abbiamo rinunziato a dar vita al nostro percorso formativo che durerà sei mesi con incontri mensili e che, come ha già detto Fausto, avremmo intensamente voluto che fossero in presenza fisica e purtroppo siamo costretti a farlo in presenza virtuale, ma siamo convinti anche che è molto meglio assicurare una continuità della nostra riflessione e quindi anche accettare questo piccolo sacrificio e speriamo nel corso dell'anno addirittura che sia possibile alcuni degli incontri farli magari l'incontro finale, farli in presenza fisica e sicuramente l'anno prossimo in presenza fisica. Il programma di quest'anno, come sapete tutti che vi siete iscritti alla scuola e voi che avete così generosamente accettato di partecipare come docenti, torna per la prima volta dopo molti anni in cui ci eravamo dedicati alla riscoperta e alla rilettura dei classici. Anche quello, un sottopercorso, diciamo così, che è stato molto proficuo, ci ha consentito di riflettere su tantissimi aspetti del passato che sono molto presenti nella riflessione odierna e ripercorrendo anche i metodi di cui abbiamo studiato a partire da Max Weber, abbiamo identificato come tema opportuno nella ripresa di un percorso che fosse più tematicamente orientato proprio le questioni di fondo della democrazia, i dilemmi della democrazia abbiamo chiamato questo semestre. Il primo incontro di oggi è dedicato proprio alle questioni della sovranità e avremo Pietro Costa e Giacomo Marramau che sono già intervenuti tante volte e sono amici profondissimi della nostra scuola Giacomo è anche uno dei fondatori della scuola ma possiamo dire anche Pietro che ha partecipato fin dall'inizio sono due studiosi prestigiosi esattamente di queste tematiche e quindi discutere della sovranità come adesso verificheremo sarà molto utile. Certo, non avremmo potuto essere più attuali e tempestivi di così nemmeno se l'avessimo proprio voluto perché i mesi e gli anni che abbiamo alle spalle sono stati anni veramente turbolenti per il presente e per il futuro delle democrazie e in particolare come sapete tutti la questione della sovranità è stata molto al centro di un grande dibattito ma non solo di un dibattito intellettuale ma anche di un confronto talvolta perfino fisico come abbiamo visto nell'assalto al congresso americano avvenuto il 6 gennaio sulle questioni proprio anche della sovranità di che cosa voglia dire sovranità oggi quali siano i confini della cittadinanza quale rapporto tra sovranità cittadinanza e forme della democrazia quale ruolo svolgono nelle turbulenze attuali i populismi visto che ci sono populismi di varia natura non sono tutti assimilabili ad un'unica specie e insomma stiamo dibattendo proprio in vitro queste queste questioni ieri c'è stato l'insediamento di Biden alla presidenza degli Stati Uniti che è avvenuto sotto in condizioni difficilissime legate proprio alla necessità di neutralizzare ogni possibile sorgente di violenza e con la prima volta che il presidente uscente non partecipa alla cerimonia di insediamento e in questi giorni abbiamo anche assistito a una crisi di governo a una discussione a una riflessione a una anche a una dilatazione delle condizioni della maggioranza e abbiamo sentito alla Camera e al Senato dibattiti in cui le questioni del sovranismo sono ritornate sono ritornate le questioni del populismo della legittimità della legittimità democratica di che cosa dà legittimità democratica del rapporto tra le forme che si sperimentano e i dettati costituzionali quindi siamo veramente nel mezzo in the middle proprio del del turbine attuale quindi riflettere ragionare oggi ci aiuterà tantissimo e così sarà per gli incontri successivi che speriamo sempre possano tenersi numerosi e con la vostra partecipazione sempre molto attiva devo come abbiamo già fatto nelle ultime lezioni dell'anno scorso che si sono dovute tenere necessariamente online anche l'anno scorso anzi tanto più l'anno scorso che eravamo in lockdown totale che ovviamente il mezzo online non ci consente nemmeno in termini di tempo l'ampiezza e l'abbondanza di disponibilità al dibattito che si ha in presenza fisica quindi ascolteremo adesso le relazioni poi un inizio di dibattito potrà comunque esserci bisognerà che ci conteniamo assolutamente nei tempi per consentire a Pietro Costa e a Giacomo Maramau di farci comunque una breve replica a questo punto darei la parola quindi a Pietro Costa grazie Laura sì indubbiamente il tema della sovranità è uno dei principali fili conduttori dell'intera modernità e non posso ripercorrerlo in un intervento di sintesi penso che avremo uno spaccato più ampio nell'intervento di Giacomo Maramau mentre io mi soffermerò su un passaggio specifico del percorso della sovranità cioè mi soffermerò sul nesso storico concettuale fra la sovranità e il discorso della nazione e su più recenti scenari nei quali sembra declinare il nesso storicamente consolidato fra nazione e sovranità mi limiterò ovviamente a delineare niente di più di una mappa di temi riconducibili all'intreccio fra stato nazione e sovranità il nesso concettuale fra sovranità e nazione è relativamente recente la storia della sovranità è molto più lunga della storia della nazione possiamo sia pure con molta cautela parlare di una visione medievale della sovranità mentre manca nella letteratura medievale un'idea politicamente elaborata e pregnante della nazione non solo la prima grande teoria moderna della sovranità la teoria hobbsiana una teoria che eserciterà un lungo e profondo influsso sulla riflessione otto-novecentesca assai più che sui contemporanei di Hobbs non include nazione nel suo lessico concettuale ciò non toglie però che già nel 6-700 il termine nazione circolasse ampiamente nella pubblicistica soprattutto in Francia e in Gran Bretagna non è casuale il mio riferimento a queste aree è in esse infatti che precocemente si svolge quel processo di accentramento dei poteri che coincide con ciò che chiamiamo abitualmente la nascita dello stato moderno potremmo dire che la nazione prende ad acquisire una valenza politica laddove viene formandosi una nuova organizzazione dei poteri all'interno di un dato territorio quando nell'Europa e delle monarchie impropriamente dette assolute una pluralità dei ceti città e istituzioni originariamente autonomi vengono costretti a gravitare intorno al monarca che reclama la sua piena sovranità è questo nuovo ordine politico che comincia a essere connotato come nazionale in Inghilterra come in Francia il termine nazione fra 6 e 700 viene impiegato per sottolineare l'unità complessiva dell'ordine politico sociale esistente viene riferito a una società organizzata per ceti strutturata gerarchicamente culminante nel re vertice e sigillo dell'ordine la svolta radicale che investe anche la definizione della nazione del suo rapporto con la sovranità interviene con le rivoluzioni di fine settecento in America e in Francia in Francia la rottura con la definizione ancien regime di nazione ha un protagonista facilmente individuabile CIS fra la fine del 1788 e gli inizi del 1789 di fronte alla crisi sempre più acuta del sistema politico e sociale francese CIS in due brevi saggi il saggio su privilegi e i pamphlet che cos'è il terzo stato pone la domanda fondamentale chi è il sovrano a questa domanda avevano dato una risposta innovativa i filosofi del diritto naturale nella loro prospettiva il sovrano è il prodotto di un contratto sono i soggetti che nella loro condizione di uguaglianza naturale originaria si accordano per creare il sovrano che cosa fonda l'ordine politico dunque una decisione dei soggetti sono i soggetti che in origine uguali fra loro fondano l'ordine politico CIS adotta questo modello ma lo trasferisce per così dire dal cielo della pura teoria al terreno della progettazione costituzionale in un luogo in un tempo preciso nella Francia in Francia nel presente quali sono i soggetti che in Francia si trovano in condizioni di uguaglianza giuridica i membri del terzo stato i borghesi gli artigiani i commercianti i professionisti eguali fra loro giuridicamente subordinati alla nobiltà e al clero e dunque al terzo stato per CIS che dobbiamo guardare per individuare i soggetti chiamati a fondare l'ordine politico se è così però occorre allora ridefinire alla radice la nazione occorre ripensarla liberandola dalla logica delle diseguaglianze della gerarchia che l'ha dominata signora occorre escludere dalla nazione i 200.000 privilegiati e identificarla con i 25 milioni di francesi giuridicamente uguali la nazione deve coincidere con il terzo stato ed essere quindi composta da tutti i soggetti giuridicamente uguali in quanto somma di tutti i soggetti uguali è la nazione il soggetto collettivo cui attribuire la sovranità è facile intendere l'importanza teorica e pratica di questa impostazione se essa individua un nuovo soggetto collettivo la nazione dei soggetti giuridicamente uguali e lo investe di un potere assoluto il potere di fondare un nuovo ordinamento senza vincoli e limiti è la nazione che in quanto titolare della sovranità legittima la rivoluzione non solo se la sovranità è della nazione la nazione deve essere messa in grado di decidere effettivamente del loro ordine politico come rendere possibile ciò è solo un problema tecnico 25 milioni di francesi non possono evidentemente prendere decisioni riunendosi in una gorà possono però decidere per interposta persone leggendo alcuni rappresentanti emerge un potere specifico cui possiamo dare un nome che ci è familiare il potere costituente e assemblea costituente potrà dirsi l'insieme dei rappresentanti che in nome della nazione saranno chiamati a fondare il nuovo ordine politico e dunque la nazione il nuovo soggetto collettivo cui imputare l'intero processo costituente e rivoluzionario è la nazione il titolare in ultima istanza della sovranità e questo il messaggio inequivocabile delle due rivoluzioni di fine settecento anche in america aveva avuto luogo un processo di nation e state building da questo punto di vista analogo al processo che di lì a poco si sarebbe sviluppato in Francia certo l'esperienza rivoluzionaria di fine settecento è intensa ma breve in Francia e conviene chiedersi che cosa resti del modello CIS nell'Europa del secolo successivo in effetti non resta molto se non un elemento peraltro essenziale l'assunzione direi ormai irreversibile della nazione come fondamento dell'ordine politico cambia però tutto il resto a partire dal concetto di nazione o di popolo la nazione il popolo per i tedeschi il folk diviene il principale simbolo dell'identità collettiva in tutto l'ottocento la poesia il teatro la pittura la musica concorrono a fare della nazione un punto di riferimento essenziale per la vita individuale e collettiva gli elementi che la definiscono sono molteplici dalla lingua alla religione alla morale al diritto ma è anche di primaria importanza il riferimento all'appartenenza a una medesima stirpe ai legami di sangue che si rinnovano di generazione in generazione certo contano anche la coscienza e la volontà di essere una nazione si pensi a Mazzini a Renan la coscienza però significa innanzitutto consapevolezza delle radici e del destino iscritto in esse possiamo scoprire e valorizzare le nostre radici ma non possiamo cambiarle l'identità nazionale è plasmata da una storia immemoriale che la strappa alla casualità e alla contingenza e imprime a essa il senso di un percorso provvidenziale fatale la nazione è storia e la storia della nazione è vissuta come è rappresentata e immaginata come una storia sacra è la storia di un processo salvifico segnato da tradimenti ed eroismi da cedimenti e da successi ma comunque orientata al riscatto finale l'identità nazionale è circonfusa da un'aura sacrale e il senso dell'appartenenza alla nazione è rafforzato da simboli religiosi valorizzate dall'epica nazionalistica il pathos religioso investe più diversi aspetti dell'identità nazionale ma trova un terreno privilegiato in una componente fondamentale della nazione il territorio il territorio in quanto luogo di insediamento di un popolo consapevole della sua identità non ha una valenza meramente politica sono i legami di sangue la catena ininterrotta delle generazioni la cultura che tengono unito un popolo e lo vincono a un determinato territorio e proprio per questo il territorio sul quale da tempo immemorabile un popolo è insediato non è soltanto un luogo fisico ma è soprattutto uno spazio identitario e se è uno spazio identitario è di nuovo uno spazio sacro l'appartenenza alla nazione e per suo tramite allo stato ha una dimensione etica e religiosa indica un destino è impressa sul volto sul soma sulla psiche dei soggetti e solo in ultima istanza ha anche una valenza politica e giuridica l'identità individuale trae senso dall'identità collettiva e se necessario deve essere sacrificata sull'altare della comunità nazionale la nazione è una madre la sublime madre nostra come recita il titolo di un libro di Alberto Banti una madre esigente che dà la vita ma anche la chiede ma anche la chiede e circonfuso dall'aura sacrale di cui dicevo l'identità nazionale valorizza l'etica del sacrificio l'eroe dell'epica nazionalistica è votato prima che al trionfo alla morte sacrificale anche in questo caso tanto l'iconografia quanto il teatro in particolare il teatro in musica offrono le testimonianze più provanti in linea con la generale presa di distanza dall'edonismo e dall'individualismo settecenteschi la coscienza della nazione come missione e come destino esige la disponibilità al sacrificio di sé all'immolazione alla morte ma a sua volta la disponibilità alla propria morte è l'altra faccia di un conflitto che ha come posta in gioco la morte del nemico l'epica nazionalistica è intimamente legata alla guerra la nazione risorge nella misura in cui scopre la sua condizione di avvilimento in esilio a casa propria la nazione prende coscienza di sé individuando un nemico e il nemico è lo straniero quel calpista il sacro suolo della patria forgiato dal simbolo dell'identità nazionale lo Stato in particolare in Germania in Italia ma più in generale è intimamente legato alla guerra e peraltro una lunga e robusta tradizione in particolare della cultura tedesca aveva sottolineato la vocazione guerriera dello Stato si pensi emblematicamente a Hegel la nazione è dunque la sintesi vivente di una storia millenaria è una comunità costruita dalla storia legata a un territorio cementata dal legame di sangue da tratti culturali linguistici etici religiosi condivisi la nazione non è un insieme di soggetti che decidono di fondare come meglio credono l'ordine politico è lontano ormai il contrattualismo sei-settecentesco appare improponibile l'idea che siano i soggetti a fondare con una loro libera decisione l'ordine politico subentrano altri paradigmi che ruotano intorno alla società e alla storia e definiscono il rapporto fra l'individuo e la comunità politica l'individuo come tale è considerato una astrazione il lascito di una secolo superato non esiste l'individuo svincolato da una rete di relazioni e di vincoli l'individuo per un verso è forgiato dal passato dalla tradizione dalla storia e per un altro verso trae la sua identità profonda dall'essere parte di una comunità più ampia localizzata legata a un territorio l'individuo è un momento della nazione per i tedeschi del volco e del popolo e la nazione a sua volta si realizza compiutamente come stato la nazione dunque da un lato si propone come il principale simbolo dell'identità collettiva e dall'altro lato trova la sua unità e la sua definitiva realtà solo in quanto si realizza nello stato è lo stato il culmine di quel processo storico di cui la nazione è il collante identitario e il veicolo simbolico stato e nazione si implicano a vicenda e insieme vengono a comporre la forma politica trionfante nell'ottocento e nel primo novecento è intorno al simbolo e alla struttura dello stato-nazione che si sviluppa la gius pubblicistica ottocentesca e per essa la sovranità è l'essenza l'anima il centro propulsore dello stato la sovranità è il potere supremo che tiene insieme lo stato ed è lo stato che a sua volta rende possibile l'ordine sociale e politico complessivo la sovranità è concepita come un potere assoluto privo di vincoli e di poteri sovraordinati se esistessero vincoli e limiti al suo potere lo stato cesserebbe di essere sovrano due secoli dopo la sovranità immaginata da Hobbes trova una sua realizzazione istituzionale e una sua conferma teorica anche per i giuristi del secondo ottocento l'ordine coincide con la volontà sovrana dello stato è dallo stato che anche i diritti dipendono i diritti certo sono un momento dell'appartenenza allo stato nazionale cittadinanza e nazionalità tendono a sovrapporsi i diritti sono essenzialmente diritti dei cittadini ciò non deve far credere però che i diritti trovino nello stato nazionale ottocentesco un ambiente ostile nel quadro del trionfante liberalismo i diritti cosiddetti civili la libertà e la proprietà appaiono irrinunciabili e non solo nel corso dell'ottocento lentamente e faticosamente decolla anche un processo di estensione dei diritti che condurrà frotto e novecento all'allargamento del suffragio e poi al suffragio universale in ogni caso quali che siano i diritti volta a volta garantiti resta comunque fermo che i diritti sono un momento dell'ordine statuale una funzione della appartenenza allo stato nazionale uno stato dunque concepito come onnipotente creatore dell'ordine giuridico consustanziale a una nazione che conferisce a esso la sua valenza etico-storica e la sua legittimità sono queste le coordinate della sovranità ottocentesca che incidono anche sulla modulazione di tre importanti espressioni della sovranità stessa in primo luogo la dimensione al contempo protettiva e repressiva della sovranità protezione e repressione si intrecciano in ogni momento della parabola storica della sovranità fino a suo esordio nella prima età moderna il rapporto fra il sovrano e il suddito era riconducibile a una sorta di sinalagma il sovrano offre al suddito la sicurezza la protezione dalle aggressioni e ottiene in cambio l'obbedienza tu mi obbedisci e io ti proteggo dai nemici esterni e dai nemici interni che attentano ai tuoi beni e alla tua vita per proteggerti devo usare tutta la mia forza da ciò lo ius gradi la forza coattiva del sovrano ricordiamo la famosa definizione Weberiana dello Stato come monopolista della violenza legittima una forza coattiva che trova nello ius vite acnesis nel potere di infliggere la morte la sua emblematica espressione certo i contenuti della sicurezza garantiti dal sovrano cambiano drasticamente con il mutare dei contesti storici offrire sicurezza nella Francia del re sole è molto diverso dall'offrire sicurezza nella Francia della terza repubblica a fine ottocento la protezione sovrana prende ad assumere contenuti nuovi fra questi una crescente sistematica erogazione di aiuti alle classi subalterne nel momento in cui si avvia il grande esperimento dello Stato sociale e quanto Foucault ha espresso con una famosa ed efficace affermazione secondo la quale con la diffusione dello Stato sociale la sovranità si risolve non più tanto nella violenza depressiva quanto nel sostegno ai bisogni vitali dei soggetti il sovrano ormai scrive Foucault esercita il potere non tanto di mettere a morte quanto di far vivere erogando assistenza e di lasciar morire escludendo dall'assistenza ciò è vero a mio avviso ma non fino in fondo la dimensione terrifica della sovranità non è scomparsa basti pensare all'ostinata permanenza della pena di morte in molti stati europei ancora nel secondo novecento per non parlare dell'impiego attuale della pena capitale ad esempio negli Stati Uniti o in Iran o in Cina non è scomparsa la dimensione violenta della sovranità come appare con evidenza ancora maggiore se prendiamo in considerazione un secondo profilo essenziale della sovranità il suo rapporto con la guerra ecco la seconda importante caratteristica della sovranità della sovranità in generale in particolare della sovranità ottocentesca una vocazione alla guerra che trova alimento e stimolo in quel discorso della nazione a cui mi riferivo prima e che della sovranità è una componente imprescindibile la nazione ottocentesca vi dicevo ha un intimo legame con il nemico e con la guerra certo esistono differenze che non devono essere sottovalutate fra il nazionalismo risorgimentale di un mazzini che guardo ancora a una ropa di nazioni pacificamente conviventi e il nazionalismo di fine secolo sempre più apertamente aggressivo ed espansionistico queste innegabili differenze però non devono nemmeno farci dimenticare la valenza identitaria e la spinta aggressiva che il discorso della nazione ha proiettato sullo Stato la sovranità ottocentesca è l'altra faccia dell'ottocentesco mitologema della nazione e il loro sbocco obbligato è la competizione fra i diversi Stati e Nazioni e in ultima istanza la guerra la dimensione guerriera dello Stato-Nazione viene sottolineata con enfasi crescente a fine ottocento e all'inizio del novecento la competizione fra gli Stati aumenta e si esplica emblematicamente nella lotta per accaparrarsi possedimenti coloniali il famoso Scramble for Africa ed è a questo punto che a questo proposito che emerge la terza componente del nesso che è il discorso della nazione intreccia con la centralità nel corso dell'ottocento la dimensione intrinsecamente eurocentrica di entrambe la nazione e lo Stato che ne è l'espressione sono nell'ottico ottocentesca come ricordavo espressione della storia e dominante nell'ottocento è l'idea della storia come di una linea tracciata dal basso verso l'alto la storia come progresso come passaggio dall'arcaica barbarie allo splendore della civiltà moderna i tempi di questo sviluppo storico però non sono uniformi il progresso storico trova il suo culmine in occidente mentre in altre zone del mondo in Africa ad esempio in Oceania le popolazioni sono ancora arretrate e selvagge la storia culmine in occidente ed è di questa storia che gli stati nazioni sono espressioni the west and the rest come si dice gli stati nazioni e i diritti che si fondono sono un emblema dell'occidente mentre le popolazioni arretrate privi di identità nazionale e di sovranità statale possono e devono essere conquistate per questa via civilizzata la sovranità degli stati nazionali si coniuga dunque sempre più strettamente con la dimensione etnicistica dell'identità nazionale con la sua declinazione aggressiva con la sua vocazione alla guerra trova uno sbocco nell'espansione coloniale e culmina infine nell'apocalisse della prima guerra mondiale che è una sorta di banco di prova e di tragico esito della visione ottocentista della sovranità nazionale ed è al contempo dall'uncio di un punto di un ritorno finisce il secolo lungo e inizia con i regimi totalitari degli anni venti e trenta un nuovo capitolo nella storia della sovranità moderna ovviamente manca il tempo perché mi posso soffermare su di esso vorrei almeno però ricordare come per l'ideologia fascista per il nazionalsocialismo il discorso è diverso in parte il messo fra nazione e stato continua a essere un elemento centrale il fascismo nasce pretendendo di parlare in nome dell'intera nazione italiana una nazione tradita dall'imbelle democrazia liberale riscattata dalla guerra e si sviluppa il fascismo facendo leva da un lato sulla dimensione aggressiva espansionistica guerriera della nazione in continuità con l'ideologia nazionalistica di Rocco e di Corradini e dell'intero partito nazionalista e dall'altro lato il fascismo si sviluppa facendo leva sulla completa incorporazione della nazione nell'onnipotente sovranità dello Stato è consostanziale a tutto il fascismo l'esasperazione della componente etnicistica e aggressiva dell'identità nazionale ed è su questo tronco che si innesta a partire dalla guerra di Etiopia e poi con le leggi razziali e l'avvicinamento della Germania una declinazione la declinazione è compiutamente razzista di questa identità è in questo orizzonte ideologico che si esitono la celebrazione fascista dell'onnipotenza dello Stato la compressione dei diritti l'avvilimento dell'autonomia dei soggetti tutto ciò si interrompe quando nel secondo dopoguerra si avvia la costruzione delle nuove democrazie occorre romperli con il passato regime incipit vita nova esclamava Calamandrei e la sovranità la sovranità totalitaria ma anche la sovranità degli stati nazionali ottocenteschi non può non essere messa sul banco degli imputati nel momento in cui si prende a disegnare in Italia in Francia in Germania il profilo di un ordine nuovo entra in crisi quell'idea sovranità potremmo dire un'idea hobsiana di sovranità che aveva dominato l'ottocento e il primo novecento fino alla sua parossistica esasperazione totalitaria entra in crisi la dimensione interna della sovranità grazie al rovesciamento del rapporto tra i diritti della persona e i poteri dello Stato ed entra in crisi la dimensione esterna della sovranità quella dimensione esterna che aveva trovato la sua principale espressione nella guerra anche su questo fronte occorre puntare pagina già negli anni venti e trenta del novecento il pensiero federalista aveva puntato il dito contro gli inevitabili effetti polemogeni della sovranità assoluta secondo i federalisti le guerre che avevano insanguinato l'Europa e il mondo sarebbero scoppiate di nuovo se non si fosse imbrigliata la potenza dell'Eviatà solo se gli stati fossero divenuti parti di organismi internazionali o sovranazionali sarebbe stato possibile assicurare una pace durata è in questa prospettiva che anche la nostra Costituzione dichiara di ripudiare la guerra e di aprire l'ordinamento a organismi sovrastatuali e all'ordinamento internazionale ed è in questa prospettiva che prende vigore l'idea di un futuro ordine europeo cui gli stati membri avrebbero dovuto delegare una parte del loro originario potere di nuovo non posso soffermarvi nel poco tempo disponibile sul complesso processo di costruzione di uno spazio giuridico europeo e mi limito ancora una volta a rapidissimi richiami beh ovviamente l'intera costruzione europea che presentandosi come un ordine transnazionale e transstatuale mette in questione almeno implicitamente la tradizionale visione ottocentesca del messo fra stato nazione e sovranità direi però che è soprattutto a partire da un momento fondamentale nella storia dell'ordine europeo che il nodo della sovranità e o del suo superamento si presenta con particolare urgenza quando con la fine della guerra fredda e con la disgregazione del blocco sovietico sullo sfondo viene firmato nel 92 il trattato di Maastricht nasce infatti con questo trattato l'unione europea cioè nasce un assetto istituzionale che non vuole avere una valenza soltanto economica ma si presenta come una vera e propria comunità politica nasce appunto una nuova comunità politica e non è però chiaro quale sia la natura giuridica di essa i giuristi e i politologi hanno versato fiumi di inchiostro per decifrare l'enigmatico volto dell'unione europea mi limito a ricordare alcuni punti di questo complicatissimo dibattito da un lato l'unione europea non sembra riducibile a una somma di trattati internazionali è un'intera complessa un ordinamento composito ma tutt'altro che evanescente capace di limitare effettivamente la sovranità a un tempo intangibile degli stati negli dall'altro lato però il nuovo ordinamento è molto lontano dalla forme immaginate dal manifesto di ventotene per intenderci dagli stati uniti d'europa auspicati dai federalisti non soltanto perché i poteri dell'unione europea non hanno la forza centripeta e la capacità decisionale di uno stato federale ma anche perché l'unione europea è sì una comunità politica ma manca di un contrassegno concettualmente essenziale della statualità non dispone cioè della personalità giuridica l'essenza della statualità ottonovecentesca la sovranità un unitario incontrovertibile centro decisionale non sembra rintracciabile come sottolinea McCormick nell'esperimento europeo estranea dunque al paradigma statuale l'unione europea sembra presentarsi come un quid novi un ordinamento di ordinamenti impegnato in una capillaria azione di mediazione e di patteggiamento fra poteri diversi valga il riferimento due concetti chiave che proprio nell'esperimento europeo hanno trovato un privilegiato terreno di esplicazione il principio di sussiderietà e il concetto di governance ovvero il principio secondo il quale l'ordinamento generale l'unione interviene solo quando l'azione degli ordinamenti particolari gli stati non sono in grado di raggiungere l'obiettivo prefisso e l'idea di un governo governance che non tanto procede dall'alto verso il basso dell'esercizio della sovranità quanto si risolve nel coordinamento di poteri policentrici e di istituzioni relativamente autoniche si sono impiegate a questo proposito diverse formule si è parlato di multilevel government alcuni hanno addirittura fatto ricorso al concetto di impero per sottolineare la forma composita dell'unione il suo carattere di ordinamento di ordinamenti la sua eterogeneità multinazionale la sua struttura reticolare e sinodale le formule possono essere diverse ma la conclusione è la medesima occorre pensare l'unione europea liberandosi uso un'espressione di Sabino Cassese dalla dittatura culturale statocentrica e dai concetti ad essa storicamente e concettualmente aggregati quali appunto l'idea di un governo verticale e la sovranità elemento portante della struttualità moderna è facile capire come ci stiamo muovendo su un terreno inesplorato e complicato da un lato gli stati nazionali restano in piedi ma perdono la loro ottocentesca obsiana assolutezza e devono fare i conti con il nuovo ordinamento e dall'altro lato il nuovo ordinamento non trova nella sovranità il suo finale punto di questione un esperimento così nuovo ha suscitato negli anni 90 in particolare un notevole interesse anche fuori d'Europa l'idea di un ordine post-statuale di un ordinamento di ordinamenti e la declinazione plurale della cittadinanza sembravano espressioni riuscite di un graduale allontanamento dallo statalismo e dal nazionalismo ottocenteschi l'esperimento era interessante ma non erano e non sono trascurabili alcune criticità e un punto critico notissimo e lungamente discusso riguarda i simboli di fondazione e di legittimazione dell'ordine europeo nell'ottocentesco processo di state building aveva svolto un ruolo determinante come ricordavo la retorica della nazione fondamentale per creare il senso di un'identità collettiva di una comunanza di origini e di destino di contro negli euro building se vogliamo chiamarlo con questa espressione non era mancata la consapevolezza di dover inventare una tradizione capace di valere come il tessuto collettivo la base identitaria del dirigente ordinamento ma i risultati conseguiti su questo piano erano stati modesti non si era in una parola formata un popolo europeo non si era sviluppato un diffuso senso di appartenenza al nuovo ordinamento vorrei dire un patriottismo europeo certo potremmo chiederci è davvero indispensabile per la tenuta dell'ordine europeo il senso di una comunità identità collettiva come tutti sappiamo Habermas aveva dato una celebre risposta negativa a questa domanda per il filosofo tedesco identità e diritti sono due facce della stessa medaglia la cittadinanza europea si risolva nei diritti fondamentali dei cittadini europei ed è il godimento stesso di questi diritti il veicolo dell'identità la tese di Habermas è suggestiva è possibile fare dei diritti fondamentali uno strumento anche identitario ed è possibile fare dei diritti il volano di quella protezione che i membri di una comunità politica richiedono entra qui in gioco di nuovo la funzione protettiva della comunità politica nei confronti dei propri membri è la protezione che incrementa il lealismo dei soggetti e però è anche su questo fronte che l'Unione Europea in quanto mero ordinamento di ordinamenti appare intrinsecamente carente mi limito a un caso i diritti sociali non mancano i riferimenti ai diritti sociali nei documenti soprattutto nei più recenti documenti dell'Unione Europea bastano questi riferimenti però per rafforzare il lealismo dei cittadini europei nei confronti dell'Unione e temo di no per due motivi uno di carattere contingente l'altro di carattere strutturale il motivo contingente è legato alla politica economica per lungo tempo fino a oggi portata avanti dalle istituzioni europee è una politica subalterna anche durante la crisi recente nonostante la crisi ai dogmi delle ideologie neoliberali con la conseguenza di far apparire inutilmente declamatorie le pur numerose enunciazioni dei diritti sociali il secondo motivo è strutturale attiene alla configurazione stessa dell'Unione Europea è vero infatti che l'Unione riconosce numerosi diritti sociali ma i principali se non esclusivi responsabili e arbitri della loro realizzazione effettiva sono ancora sempre i singoli stati membri e se dunque nella realizzazione dei diritti sociali l'Unione Europea interviene soltanto in via residuale la funzione protettiva dell'Unione Europea e quindi la sua legittimazione attraverso i diritti risultano inevitabilmente indebolite privo di un vero e proprio potere sovrano e proprio sul fronte della protezione del conseguente idealismo dei soggetti che l'ordinamento europeo in quanto nero ordinamento di ordinamenti appare carente nel periodo delle vacche grasse possiamo dimenticarci di questo voto che però diviene vistoso se alla strutturale debolezza politica dell'Unione Europea si sommano gli effetti di un altro processo dell'indebolimento cioè delle sovranità nazionali come sta appuntualmente accodendo nel mondo globalizzato anche la funzione protettiva dei singoli stati è andata rapidamente decrescendo da un lato infatti l'ideologia neoliberale ha dalmeno un ventennio assolutizzato il mercato ed esaltato la sua sfrenatezza distraendo le classi dirigenti da quel preciso e costante sostegno nei confronti dei bisogni vitali dei cittadini con la costituzione dell'impegnato e dall'altro lato i piccoli o piccolissimi stati europei mostrano di essere ormai base di coccio nelle tempeste economiche e finanziarie del mondo globalizzato da un lato dunque una sovranità indebolita e sempre meno protettiva dall'altro lato un ordinamento di unione europea pensata e voluta come non sovrano o se si preferisce post sovrano e come tale strutturalmente non protettiva credo quindi che abbia ragione Carlo Galli nel suo recento libro sulla sovranità nel perorare la causa della sovranità sembra difficile effettivamente fare a meno del sovrano e delle sue essenziali funzioni protettive e il problema aperto resta chi sia chi debba essere chi possa essere il sovrano a me sembra che mai come oggi il rafforzamento dell'Unione Europea sia al contempo una strada obbligata e una strada impervia impervia perché ostacolata da ingombranti e malintesi interessi nazionali forse avremo bisogno schmittianamente di un comune nemico speriamo che la pandemia possa svolgere sul terreno dei simboli e sul terreno delle pratiche di governo questo ruolo grazie Pietro sì ora lo sento ecco ora ora si sente grazie Pietro direi che ascoltiamo subito Giacomo e poi apriamo un piccolo dibattito grazie Laura e grazie anche a Pietro per questa relazione molto molto dotta e molto opportuna il mio contributo sarà più discorsivo nel senso che mi discosterò dalle parti e dagli appunti scritti per entrare nel vivo di una serie di questioni che anche Pietro ha a prima posto in primo luogo il senso è ribadito il senso di questa scuola di politica che acquisire riacquisire strumenti anche storici per comprendere il presente e quindi da questo punto di vista il contributo di Pietro è stato molto importante e la prima considerazione che farei è la seguente poi entrerò nel vivo dei problemi ma la prima considerazione è la seguente viviamo in un mondo sicuramente globalizzato dove il mantenimento dei comparti dei diversi stati stati sovrani è sempre più problematico questo non c'è dubbio perché una crescente interdipendenza è una bellissima battuta del premio Nobel per l'economia Josef Stiglitz mi sembra molto eloquente i capitali finanziari e quindi anche gli spostamenti di potere sui mercati globale allo stesso modo dei virus non conoscono frontiere questo pone un problema e tuttavia quel punto che Pietro ha sottolineato non c'è dubbio che quanto più è cresciuto il processo di interdipendenza globale tanto più tanto più nel mondo si sono moltiplicate le lotte per la autodeterminazione con il risultato di avere oggi molti più stati stati sovrani tra virgolette sovrani con i limiti posti da Stiglitz per l'appunto abbiamo molti più stati di quanti non ne avessimo prima a partire da diciamo che questo pone una serie di problemi ma inizierò adesso un po' a dire quello che avevo in parte scritto come complesso e vengo un attimo al primo punto del mio contributo che ha un titolo come diceva prima laura molto problematico c'è un punto di domanda il destino del leviatano dissoluzione o metamorfosi ora il primo punto è il paradigma della sovranità e per l'appunto il paradigma della sovranità e qui la prima avvertenza non può che essere un'avvertenza di metodo che quando parliamo di sovranità quando parliamo di Stato si parla di astrazione e soprattutto dal punto di vista storico perché come Pietro ha detto prima il leviatano il leviatano besiano è un è un'astrazione e quel è il modello del leviatano besiano in parte in parte ha dato luogo a una serie di stati che che possono essere ritenuti prossimi al paradigma del leviatano ma non nel seicento che era l'epoca di Hobbes bensì a partire a partire dall'ottocento più precisamente a partire dalla metà dell'ottocento e quelli che per uno storico io anche sono un filosofo attento alla storia quello che per uno storico sono astrazioni che vanno relativizzate dunque per un filosofo sono dei concetti performativi cioè ed è tutto evidente che né Hobbes né Baudin Jean Baudin ma poi ci torneremo su questi autori hanno mai pensato di costruire un modello descrittivo di quanto accadeva ma hanno invece in qualche modo elaborato un modello che voleva essere prescrittivo o per alcuni aspetti un modello performativo che voleva favorire tendenzialmente la realizzazione di qualcosa e qui partirei allora da una considerazione ben precisa e molti storici un po' trasgredendo all'avvertenza metodologica anche di Pietro adoperano e mi riferisco anche a molti storici americani adoperano i concetti di sovranità e di stato in modo troppo estensivo cioè la la sovranità c'è già all'epoca della polis atenese parlano di stato del medioevo e parlano addirittura di di stato degli incas e quindi lo estendono non soltanto dal dal punto di vista temporale ma lo estendono anche dal punto di vista spaziale cioè anche in civiltà diverse stato degli incas e qui un'avvertenza del maestro di Pietro di Paolo Grossi ma che considero in parte anche mio maestro è molto importante e dice attenzione a non adoperare il termine sovranità e il termine stato per l'Europa medievale perché non funziona addirittura nella in quel libro che è un libro assolutamente illuminante l'Europa del diritto Paolo Grossi addirittura dice quasi un po' ripetendo una formula propria degli antropologi il Medioevo è una società senza stato non c'è stato nel Medioevo non c'è per quale ragione perché nel Medioevo abbiamo una prevalenza del elemento della dimensione ordinativa rispetto alla dimensione potestativa vi è un deficit in qualche modo del potere della logica del potere all'interno del Medioevo e vi è fondamentalmente una prevalenza una prevalenza dell'elemento comunitario cioè quindi è una la caratterizzazione fondamentale del Medioevo è quella del pluralismo del pluralismo giuridico pluralismo giuridico e da questo punto di vista appunto si può dire che la la comunitas la comunità medievale le comunità medievali partono dal presupposto che l'individuo umano e qui è una discriminante molto netta rispetto alla modernità che l'individuo non è un singulus ma è socius esiste unicamente all'interno di un di un gruppo di una di una di una di una comunità se volete anche di una fazione e via di certo il modello il modello di potere medievale è quello è quello che nel 1100 è stato definito molto bene da uno dei grandi testi di politica medievale che è il Policraticus di Giovanni di Solspiore il Policraticus allora questa diciamo questa premessa la faccio per una ragione che da un lato è vero che vi è proprio nell'epoca dell'interdipendenza globale la necessità di una di un ripensamento del concetto di sovranità ma non bisogna dimenticare e vedrò alla fine attraverso il confronto con lo storico lo caro amico storico Charlie Mayer Charles Mayer della Università di Harvard ma molto legato all'Europa molto legato al dibattito anche italiano vedrò un attimo quanto invece questo questa dimensione policratica non permanga anche nel cuore nel cuore di una serie di stati di stati sovrani e vengo adesso un po' ad affrontare in maniera molto sintetica perché i punti sono diversi le questioni che che avevo in qualche modo preannunciato nell'articolazione dei miei appunti il concetto di stato è un sostantivo che come noto deriva da status e in particolare da status repubblico il concetto di stato come noi l'adoperiamo non esisteva prima l'ho detto tante volte anche nel contesto di discussioni all'università o anche fondazione qui fondazione basso il concetto di stato come noi lo intendiamo non c'era prima del celeberrimo incipit del principe di Machiavelli tutti gli stati diceva tutti e i domini che hanno avuto etanno imperio sopra gli uomini sono stati e sono o repubbliche o principali però questo è un incipit formidabile no Machiavelli per primo adopera il concetto di status per astrazione per appunto per astrazione da status repubblico e lo mette all'interno di una costellazione badate bene che non è più quella che veniva considerata ancora valida in epoca medievale cioè la costellazione della delle tre forme delle tre principali forme di governo la la monarchia l'aristocrazia e la democrazia eccetera e questa tripartizione che Machiavelli conosceva benissimo perché è colui che reintroduce il nell'età moderna reintroduce il il famoso sesto libro delle storie di Polibio e ci riflette profondamente però dice noi viviamo in un'epoca in cui le le due forme di stato sono soltanto quelle che io vi dico repubblico o principato repubblico monarchia stop esattamente quello che accade oggi e tuttavia andandomi a leggere i testi di tanti storici soprattutto stranieri non gli storici della scuola fiorentina che sono attentissimi come Pietro e altri come Paolo Grossi per l'appunto eccetera ma andandomi a leggere soprattutto storici storici tedeschi storici storici statunitensi e lì lì vedo lì vedo una 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 sorta di indifferenziazione spesso nel modo e di errori anche addirittura Machiavelli introduce per primo il termine stato allora Machiavelli è l'inauguratore della teoria della raison d'età della ragione di stato tesi di Foucault errore gravissimo non c'entra nulla con ragione di stato Machiavelli e non è neanche oppure Machiavelli è il capostipite della cioè ricordo un convegno a Parigi dove con con colleghi filosofi importanti e un filosofo di cui non farò il nome è un filosofo molto importante francese diceva Machiavelli è il primo teorizzatore della sovranità dove non c'è la sovranità e Machiavelli c'è l'esigenza dello stato ma non l'esigenza della sovranità nel senso in cui poi sarà sviluppata in parte da Bodene e poi da Hobbes e dunque la e Tien Balibar e io l'abbiamo subito interrotto dicendo guarda che stai andando fuori strada non 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 cercare in Machiavelli una teoria un concetto di sovranità perché non c'è quello c'è semmai l'origine del concetto moderno di politica che si differenzia dal concetto dal concetto classico e anche poi medievale e e allora ecco qui ho trovato un sacco di anche nell'ambito della storia lo stesso come dirò tra poco Charles Mayer anche lui in qualche modo aderisce all'idea di Machiavelli come il capostipite della raison d'età eccetera e quindi e allora vengo all'ulteriore punto che volevo trattare ma li tratterò in maniera molto sintetica e quindi anche molto se volete frammentaria da cosa nasce il concetto moderno di sovranità da una scena che viene dopo la scena che aveva vissuto Machiavelli e c'è dalla guerra civile e allora se non se non agganciamo l'origine del concetto moderno di sovranità alla guerra civile alle guerre civili di religione ai conflitti tra fazioni confessionali eccetera non 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 riusciamo a capire come nasce il concetto di sovranità in quella ambivalenza che lucidissimamente ha messo in luce Pietro da un lato protezione per l'altro verso repressione e nasce proprio dalla ora per andare oltre la guerra civile noi ci troviamo davanti nella modernità due concezioni della sovranità parlate bene ancora nel 1576 i sei libri della Repubblica Sex Livre de la Repubblica di Jean Baudin e 1651 Il Leviatano di Hobbes due momenti diversi della guerra civile europea e Baudin è un un uomo ancora del rinascimento sia pure del tardo rinascimento non ha assolutamente sentore della di quello che accadrà poco dopo con la rivoluzione scientifica galileiana Hobbes è il primo teorico della politica post rivoluzione scientifica e questo è un punto decisivo Baudin è certo il teorizzatore Schmitt car Schmitt ha ricamato mille cose su questo è il teorizzatore della sovranità moderna sì certo è il teorizzatore di una sovranità in larga parte decisionista che include in sé lo stato di eccezione no la la prerogativa della sovranità è la puissance la potenza di creare e abrogare le leggi non solo crearle anche abrogarle quindi si situa al di là della della norma al di là del nomos un'eccedenza rispetto al nomos Hobbes no è lì e lì Schmitt sbaglia completamente Hobbes non è un teorico dell'eccedenza rispetto alla legge non lo è è però un teorico un teorico della 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 sovranità come una struttura artificiale che non c'è in Bauden in Bauden è sempre l'idea della della summa potestas come 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 veniva concepita dai vari assolutismi del tardo medioevo e della prima età moderna oltretutto era come noto era un un esperto di magia e soprattutto un esperto di stregoneria scrive e di demonologia scrive un trattato sui demoni essendo lui magistrato in qualche modo fa vedere ci fa vedere la struttura gerarchica organizzativa dei demoni esattamente in modo del tutto isoformo alla struttura di una gerarchia magistraturale magistrati però siamo in un'epoca e in ombra siamo nell'epoca scientifica cioè la la sovranità è artificio per Bauden non non c'è problema la 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 politica la sovranità in qualche modo è legata a una logica in cui la natura e l'artificio sono sono strettamente intrecciati invece in Hobbes no e qui il punto fondamentale le due premesse la la rottura che Hobbes rappresenta e l'essere umano è per natura asociale non politico nasce nasce come individuo destinato a vivere una vita brutta violenta e solitaria per difendersi dagli altri questa è la la sua idea rovesciamento radicale della prospettiva aristotelica l'individuo umano non è naturaliter politico non è animale sociale politico ma questo è soltanto come dire l'aspetto più noto e forse anche meno significativo della della vi è un altro aspetto che secondo me è decisivo gli individui umani sono uguali nessuno l'aveva mai detto così e nel Decive 1642 Hobbes l'aveva detto in maniera drastica non gli uomini sono uguali uomini nel senso declinati al maschile ma tutti gli esseri umani donne e uomini e specifica donne e uomini nessuno può essere certo di poter prevalere sull'altro sull'altra con le sue con la sua con il suo potere naturale la guerra nasce da questo e nasce cioè dall'idea che dal momento che siamo tutti uguali in natura per questo ingaggiamo la guerra tra di noi dice Hobbes se ci fosse gerarchia in natura l'ordine non sarebbe un problema ma invece nasce la questione fondamentale che poi è stata sviluppata dai grandi sociologi che hanno studiato Hobbes generativa 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 dell'ordine non vi è un DNA dell'ordine in natura in natura si era soltanto una grammatica generativa della guerra del conflitto e come dire la la logica seguita da Hobbes da questo punto di vista è una logica molto lineare siamo tutti uguali indipendentemente dai sessi e per questo ci facciamo la guerra proprio per questo ci facciamo la guerra terribile questa cosa da lì la necessità del patto da lì che viene la città del covenante del patto eccetera il patto produce qualcosa che in natura non c'è un artificio e qui la e qui Hobbes tira fuori un un concetto che è mutuato e direttamente mutuato dalla dalla tradizione medievale concetto di persona ficta qui non è vero quello che diceva il carissimo maestro Norberto Bobbio che Hobbes rompe completamente con il medioevo rompe con una tradizione medievale quella della filosofia scolastica ma non ma non rompe invece ma non rompe invece con una altra tradizione che è quella del nominalismo francescano che gioca in lui un ruolo un ruolo molto importante e quindi il concetto di persona cioè la la verità nell'artificio politico la verità è congruità con le finzioni e qui anche la metafora della maschera la politica è il teatro che anticipa di gran lunga i tempi questa teatralizzazione della politica che è stata ripresa in maniera eccellente dal compianto e sociologo quello che io ritengo il massimo sociologo italiano in assoluto Alessandro Pizzorno ha ripreso questo aspetto della teatralità che è legato molto a questo concetto di persona ficta Leviatano il Leviatano è una costruzione diceva prima Pietro la sovranità è una costruzione certo però la costruzione come dire contrattual pattizia ma bisogna poi vedere in che senso invece non è anche una costruzione di tipo storico e naturalmente questa questa concezione della della sovranità è una concezione che che ci mette il rapporto che ci mette il rapporto con una una situazione molto molto particolare che è la fragilità l'onnipotenza mondana e la fragilità del Leviatano per cui il titolo di la definizione di Deus mortalis Dio mortale e il Leviatano il Leviatano ci libera dalla paura della guerra civile ma si regge su fondamento tellurico di una guerra che potrebbe ritornare di uno stato di natura che potrebbe ritornare e che Hobbes in qualche modo prefigura un po' nel Leviatano la fase del Dio morente del Leviatano morente che non riesce più ad avere efficacia né protettiva né repressiva e di conseguenza lo scenario della guerra civile in qualche modo che era stato superato dal patto potrebbe ritornare questo tema della paura è fondamentale perché ha scritto un libro molto bello Carlo Ginzburg su questo tema paura reverenza terrore e non è un caso che questo spettro della guerra civile rimane nel momento in cui Hobbes fece una pressione sull'incisore Abraham Boss che è l'incisore dell'Eviatano l'incisore del frontespizio dell'Eviatano dell'immagine che c'è che tutti conosciamo quella sorta di figura che è composta da tanti piccoli uomini su uno scenario uno scenario che in qualche modo è un scenario vario in cui a un certo punto compaiono le due figurine che Hobbes voleva le figurine dei due medici della peste citazione della peste di Atene di Tucidide quindi il tema della paura è questa idea dell'ambivalenza tra onnipotenza e fragilità e fragilità del Leviatano del Deus mortalis e da questo si potrebbe addirittura ricavare all'interno del dibattito è è stato è stato proposto anche da me che tutto sommato lo spettro della guerra civile per Hobbes è omnipresente è come dire come se dicesse la guerra civile che io ho collocato all'inizio della 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 scena che precede il patto e alla fine nella fase come dire decadente no? e morente del Leviatano in realtà la guerra civile è il fondamento dell'ordine del Leviatano il Leviatano poggia sulla sulla faglia tellurica della guerra civile per quale ragione? qui il punto fondamentale qui entra in campo il tema il tema della storia per il fatto che la la storia ha fatto emergere che la sovranità non si può reggere come patto tra individui isolati se questi individui non sono in grado di di determinare ma avete ascoltato prima Pietro Costa quindi lexio magistralis in ogni senso cioè si deve formare una comunità se non c'è il collante comunitario il patto tra individui e riposa o anche tra fazioni riposa sulla faglia tellurica della guerra civile e non c'è dubbio che è così e per quello allora è fondamentale il nesso che si è venuto a stabilire nel corso del tempo nel corso dei secoli tra tra la la sovranità e la il concetto di nazione e qui punto fondato qui devo dire una anticipo una cosa che che volevo dire dopo ma vi è una tesi molto 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 suggestiva del compianto storico inglese Benedict Anderson che nel libro Comunità Immaginate Origini e Fortuna dei Nazionalismi che dice una cosa da un lato le nazioni già cominciano a esserci nel Medioevo sicuramente nel Medioevo le nazioni già si formano attraverso miti dell'origine attraverso la musica attraverso i racconti come si direbbe oggi le narrative le diverse narrative ma dice Benedict Anderson il moltiplicatore che ha dato luogo alla formazione delle nazioni in senso moderno è stata la stampa la Galassia Gutenberg lui parla addirittura di print capitalism si formano le nazioni poi della modernità capitalistica le nazioni in qualche modo che sono formate da individui che vivendo tra loro a distanza di chilometri e quindi che non si sarebbero mai incontrate si potevano riconoscere membri della medessima comunità della nazione leggendo le stesse cose quindi attraverso il libro stampa non soltanto più la Bibbia ma attraverso i vari libri a stampa i romanzi quindi la possibilità di costruire la immaginazione cioè quando dice comunità immaginate la immaginazione per Benedict Anderson non è non è un sogno ma è invece una pratica sociale dell'immaginazione senza questa pratica sociale dell'immaginazione non si formano identità collettive che sono tutte in qualche modo frutto di costruzioni mentali collettive e qui vengo all'altro aspetto all'altro punto e il rapporto che si stabilisce all'interno delle diverse fasi del mondo moderno della storia moderna tra due principi che anche un'altra un altro un altro amico che non c'è più per quanto mi riguarda l'amico è collega Nanni Arrighi Giovanni Arrighi che italiano ma ha insegnato gli ultimi 30 anni 35 anni della sua vita negli Stati Uniti il rapporto tra i due principi costituti la mondialità e la territorialità e mi soffermo brevissimamente perché è un punto di passaggio che mi condurrà dopo che mi condurrà dopo al confronto alla parte proprio finale di questo mio contributo che è il confronto con lo storico di Harvard Charles Meyer i due principi di mondialità e di territorialità guardate bene questi principi caratterizzano dice a righi i quattro secoli lunghi della modernità attenzione anche qui c'è un punto molto importante il novecento non è un secolo breve è un secolo lungo il novecento e secondo anche per Charlie Meyer tra parentesi non è un secolo breve soltanto che lui tende a retrodatarlo dal 1870 fino agli anni ottanta del novecento secondo me il novecento non è ancora finito non è ancora finito e dobbiamo ancora entrare pienamente nel in un secolo differente ma com'è che io rileggo questa importante tesi che mondialità e territorialità a volte si sono alternate nel corso del tempo cioè a fasi dominate dalla spinta mondializzante sono succedute fasi territorializzanti di ripiegamento oppure oppure attenzione e qui il punto che qui anche Nanni non dice non dice questo ma sulla sua suggestione a volte coabitano mondialità e territorialità coabitano spesso coabitano a volte conflittualmente a volte invece spartendosi i compiti le funzioni vi faccio un esempio clamoroso il manifesto di Marx ed Engels del partito comunista di Marx ed Engels nasce nell'epoca in cui le nazioni sono elementi fondamentali della storia europea 1848 sì però c'era anche certo anche processi rivoluzionari movimenti rivoluzionari eccetera però le nazioni già si stanno costituendo le nazioni europee quindi è una fase storica di se volete di nazionalizzazione dell'Europa e tuttavia il manifesto di Marx ed Engels il manifesto del partito comunista contiene quello che Joseph Schumpeter definì il più incredibile elogio di tirambico della funzione storica della borghesia la borghesia ha rotto le frontiere ha liberato il mondo della prigionia dei confini ha realizzato ha realizzato delle cose che in qualche modo vanno al di là travalicano le frontiere mezzi di comunicazione circolazione di capitali e Marx siamo nell'epoca dell'industrialismo più classico ma Marx a un certo punto tira fuori anche con una intuizione quello è sicuramente un passo scritto da Marx che tra parentesi non aveva voglia di scrivere il manifesto lo ha spinto Engels lui aveva voglia di fare qualcos'altro continuare le sue polemiche filosofiche è stato Engels a strattonarlo a dire no bisogna entro il 1848 tirare fuori questo 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 testo e tira fuori una cosa che è un'intuizione formidabile la smaterializzazione delle delle di potere quando lui dice venir meno delle forme corporative di potere ma venir meno anche come dire della consistenza materiale delle forme di potere quella bellissima frase tutto ciò che è solido svanisce nell'aria tutto ciò che ha consistenza evapora e la trova che è una cosa splendida è un'intuizione no anche questa profetica no era una frase che piaceva molto all'elio e prima è stato citato all'elio basso anch'io conosciuto l'elio in Germania nel 1971 a casa di Wolfgang Abentroth a Marburgo nel dicembre del 71 e da allora ha chiesto a me e a Gabriella mia moglie di cominciare a collaborare con la fondazione e quindi è stata dal 71 all'anno 1978 poi l'anno della sua morte e quindi ho un ricordo molto nitido dei passi che l'elio ammirava del manifesto del manifesto di Marx ed Engels ma come vedete in quel mesto quindi vi è un elogio se volete del travalicamento dei confini eppure siamo nell'epoca siamo nell'epoca in cui si costituiscono si stanno costituendo le nazioni europee vengo alla all'ultima parte perché quanto tempo ho ancora Laura più o meno quanto? ma anche un quarto d'ora anche un quarto d'ora va bene e allora il confronto il confronto con 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 Charles Mayer al cui tengo in particolare tengo particolarmente perché Charles Mayer ha sviluppato in due libri una problematizzazione su base storica e della della questione del ritorno del bisogno di sovranità e territorialità nel cuore del mondo globalizzato e i due libri sono Leviatano 2.0 uscito per la Harvard University Press nel 2012 ma poi tradotto in italiano da Einaudi e poi il volume successivo dentro i confini 2016 stesso editore americano stesso editore italiano e è un vecchio amico nel senso che lui aveva aveva scritto nella 1975 un testo che io avevo utilizzato molto spesso nei miei lavori un testo molto bello ricasting bourgeois Europe la rifondazione dell'Europa borghese che dove dove affrontava un tema molto importante della permanenza dell'elemento pluralistico corporatista all'interno di strutture che noi definiamo come strutture statuali e sovrane qual è la tesi fondamentalmente di Charles Mayer nel primo libro e vediamo poi anche nel secondo che cosa intende con questo aggiornamento numerico ricavato dal software digitale Leviatano 2.0 intende dire che il Leviatano 2.0 è quella forma di stato storicamente analizzabile che va dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento questo è il Leviatano 2.0 e quindi è in qualche modo il il modello il modello della della dello stato nazione e anche se aggiunge aggiunge Charles Mayer non diversamente da come da come ha fatto Paolo Grossi nell'Europa del diritto e da come anche ha fatto Pietro prima anche se se parliamo di stati e di stati sovrani la varietà della delle statualità e la varietà delle sovranità è notevole e va analizzata specificamente e quindi lo stato sovrano c'è quando le funzioni potestative e non meramente ordinative quindi un discorso molto simile a quello di Pietro prima potestative non meramente ordinative sono in qualche modo definite sul doppio versante interno ed esterno all'interno quindi del territorio all'esterno del territorio tra parentesi il territorio diventa una definizione essenziale della sovranità come è stata stilizzata ai primi del novecento da Max Weber e quando Max Weber dice in sostanza un po' formalizzando il discorso di tipo obesiano che la sovranità è data da un doppio monopolio monopolio della violenza legittima esercizio della violenza legittima e monopolio delle fonti del diritto se non hai una di queste prerogative non possiamo parlare di sovranità e l'esercizio di questa sovranità da parte dello Stato deve valere sia all'interno del territorio dello Stato sia rispetto a partner esterni ma aggiunge Mayer questo modello anche nella modernità non vale nell'ambito ad esempio del mondo anglo-americano a differenza della teoria giuridica scrive Charlie Mayer nel continente europeo il modello anglo-scozzese e poi nord-americano di ordinamento giuridico non separò mai il concetto di legge dal mondo commerciale e associativo e qui noi abbiamo una 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 sorta di di distinzione all'interno nel cuore della modernità nel cuore della modernità tra tra la la tradizione del diritto civile di civil law e la tradizione di common law anche se in qualche modo oggi tendono in qualche modo a ammeticciarsi l'una con l'altra ma comunque sia la tradizione continentale quella leviatanica rimane una tradizione legata alla dogmatica giuridica l'altra invece rimane strettamente connessa ancora alla cassistica giuridica anche se naturalmente basta parlare con 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 i giuristi americani per dire che i giuristi americani hanno un bisogno enorme hanno avuto bisogno enorme di fare anche loro dei codici e quindi non si limitano alla cassistica al diritto giurisprudenzale se non che qui il punto ehm 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 agli inizi del ventesimo secolo dice Meyer ehm la compagine statale era anche in Europa intrecciata con una rete inestricabile di interessi corporativi sindacati e partiti politici sindacati dei lavoratori sindacati dei imprenditori partiti eccetera che in qualche modo rivendicavano il diritto a governare o comunque a condizionare l'azione di governo in un sistema pluralistico corporatista e competitivo e e andando avanti sempre nel novecento malgrado la configurazione la la come dire la la impalcatura architettonica sovrana in qualche modo dello Stato lo Stato stesso si viene trasformando in un complesso di ambiti tecnici e di esperti operanti in un regime di democrazia deliberativa condizionato da pressioni di stampo populista è destinato a configurarsi come lui dice tendenzialmente oggi un leviatano 3.0 che è caratterizzato in qualche modo da 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 se volete da la convivenza di una una doppia anima e nell'ambito degli stati democratici ovviamente dice quello che sto dicendo non vale per paesi come la Russia come la Cina come l'India e via dicendo per l'Asia non vale questo è un discorso che riguarda la storia dell'Occidente no e ebbene e qui noi noi abbiamo un problema serio che in qualche modo legato alla al al modo al modo in cui si viene atteggiando la impalcatura l'impalcatura statuale e e si viene in qualche modo atteggiando tenendo insieme le due anime se volete a questo punto della democrazia dato che parliamo di stati democratici o di stati che si qualificano come democratici e la democrazia ha una doppia anima un'anima medisoniana che è quella che prevale in tutte le costituzioni la sovranità appartiene al popolo il quale tuttavia può esercitarla soltanto entro i limiti fissati dalla costituzione la nostra carta costituzionale ma tutte le carte costituzionali dei paesi democratici hanno questo tipo di formula medisoniana cioè i limiti all'esercizio della sovranità e però la democrazia ha anche un'altra anima dice Charlie Mayer che non si scandalizza di usare questo ismo io mi scandalizzo un po' a dire la verità in generale è un po' usare qualunque ismo è anche sovranismo insomma ma non 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 ha come dire pudore di utilizzare positivamente anche il termine populismo lì c'è una un'antica storia americana non soltanto latino-americane ma statunitense che vi ricordo il people's party dei principi del novecento populismo e dove in fondo Mayer ci dice una cosa non la dice così ma è la mia sintesi in qualche modo il populismo è una autobiografia della democrazia che è la promessa di partecipazione promessa di partecipazione di allargamento dei canali di partecipazione quindi la convivenza tra anima 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 medisoniana se volete che è l'anima del costituzionalismo dello stato costituzionale di diritto è l'anima e l'anima e l'anima populista tra virgolette che vuol dire la la promessa di di partecipazione il tutto all'interno di una di una realtà nella quale dice a questo punto l'idea di spazialità è cambiata cioè dobbiamo in qualche modo renderci conto che ci muoviamo all'interno di una diversa idea e pratica della spazialità e lo spazio è di due tipi spazio decisionale e spazio identitario spazio identitario vuol dire spazio di appartenenza che rapporto c'è tra questi due spazi è qui il punto nel mondo globalizzato i due spazi tendono a divergere a causa dei fenomeni migratori tendono a divergere e lo scontro tra globalisti e territorialisti è uno scontro trasversale rispetto alla tradizionale divisione destra sinistra ognuno dei due campi ha una sua destra e una sua sinistra parlate bene questo scompagina molto e qui potremmo dire noi usiamo dei tè qui però un po' il mio commento a Charlie a Charlie Meyer e la usiamo usiamo concetti del ventesimo secolo per una realtà che ormai quella del ventunesimo secolo cioè non nel senso che non ci sia più la destra una sinistra ma 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 vi è una destra globalista e sinistra globalista come c'è una destra territorialista e una sinistra territorialista e quindi non va in qualche modo dice trascurato questo e non va neanche trascurato l'aspetto in qualche modo dell'impatto sulla pratica politica delle tecniche le nuove tecnologie anche questo è fondamentale e dei concetti scientifici e anche filosofici di spazio e di tempo che hanno inciso profondamente l'idea di cyberspazio di cyberspazio e il cyberspazio è insieme dice Meyer pre-territoriale post-territoriale entrambe le cose insieme e abbiamo dunque una metamorfosi della territorialità e dove la tecnologia si sviluppa in modo esponenziale con il passaggio dall'elemento della terra all'elemento del mare all'elemento dell'aria o addirittura all'elemento dell'etere che è l'elemento del digitale questa metamorfosi all'interno però all'interno di questa dimensione del cyberspazio che non possiamo trascurare non dobbiamo perdere di vista l'altro lato che l'istinto territoriale tende comunque a essere presente ed è in qualche modo un istinto pericolosamente populista l'istinto territoriale resta presente e quindi come dicevo il populismo come autobiografia della democrazia ultima battuta avevo tanto ancora da dire ma non il rapporto tra governance e sovranità ma non c'è tempo e condivido quello che Pietro prima aveva detto sulla sull'Unione Europea l'Unione Europea non può essere solo ordinamentale un ordinamento di ordinamenti ma deve trasformarsi in soggetto politico e istituzionale e quindi in uno Stato federale non c'è via d'uscita Stato federale se no non ne usciremo in un mondo in cui vi è per un verso un mercato del capitale globale ma per altro verso abbiamo la potenza di capitalismi politici è un tema che io ho sviluppato in un volume che si chiama dopo il Leviatano ho detto c'è un capitale globale mercato capitalistico globale essenzialmente finanziario ma non soltanto finanziario ma non c'è un capitalismo globale vi sono varie potenze del capitalismo globale è stato ripreso da un giovane areso che ha ripreso anche quella mia tesi della pluralità dei capitalismi ebbene abbiamo abbiamo oggi abbiamo la Cina abbiamo la Russia abbiamo l'India sono diverse diverse forme di cambiamento e soprattutto abbiamo i due andiamo un po' al dunque abbiamo i due sovrani del mondo Stati Uniti e Cina e l'Europa può pensare di farcela con un legame un flebile legame ordinamentale tra i suoi staterelli può pensare la Germania di scavalcare tutti con i suoi rapporti privilegiati con la Cina certo intelligente mossa di Angela di Angela Merkel ma non ce la può fare tra un anno o due la Germania non sarà più in un G8 perché sarà scavalcata da altri paesi insomma quindi è soltanto un'Europa politica che può sperare e io penso come io ritengo ma come penso ritenga anche Pietro che l'Europa avrebbe nella DNA della propria tradizione culturale politica la possibilità di costituire un terzio rispetto al modello al paradigma di globalizzazione individualistico competitivo statunitense e al modello alternativo di globalizzazione comunitario ma autoritario e paternalistico della Cina dal momento che nella sua cultura l'Europa ha una idea dell'individuo non soltanto competitivo ma soprattutto solidale è un'idea della comunità non autoritaria ma capace di valorizzare le differenze singolari le differenze individuali ho visto una bellissima cosa però prima del video di Pietro mi pareva di aver visto una coda era un gatto è un gatto stupendo va bene una gatta va bene bene e quindi diciamo la mia conclusione è una conclusione di sostanziale e profonda condivisione con quanto diceva Pietro alla fine della sua lezione grazie dell'attenzione Giacomo sì scusa Giacomo sì mi sentite sì senti Giacomo prima di ringraziarti e di passare la parola a coloro che vorranno intervenire ti chiederei di aggiungere brevemente qualcosa su quell'aspetto di governance e sovranità perché sarà un tema che tratteremo ulteriormente come sai la nostra amica Maria Rosaria Ferrarese è una studiosa di questi aspetti e avremo un incontro quando faremo un incontro dedicato alla governance a tutto questo dibattito che ha posto governance al government per l'appunto quindi se ci dici qualcosa c'è molto utile poi per il prosieguo sì se dovessi appunto affrontare in maniera anche approssimativamente precisa il discorso di Meyer e le mie considerazioni insomma ci vorrebbe almeno un trequartito ma io sono d'accordo con Charlie Meyer che la governance non può essere come sostengono alcuni teorici liberali insomma liberali democratici anche e come come ha sostenuto essenzialmente Michel Foucault che alcuni miei cari amici prendono per un autore di estrema sinistra mentre era fondamentalmente legato a una a una tradizione essenzialmente liberale con un po' di acido prussico dentro ma fondamentalmente tradizione liberale e la governance non 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 può sostituire la sovranità ad esempio io stesso ero stato anni fa anni fa parlo di più di vent'anni fa ingannato in una serie di convegni che avevo tenuto fatto in Germania in Stati Uniti e anche in Italia e ero stato ingannato dalla formula dell'Europa come un multilevel governance system e un sistema di governo multilivello che non appartiene a nessuna tipologia istituzionale finora conosciuta nell'ambito della storia dell'Occidente ecco io penso io penso che la una sola governance in un mondo in un mondo in cui esiste già una ripartizione dello spazio e del conflitto sugli spazi sui territori e sulle risorse da parte delle due grandi potenze che sono Stati Uniti e Cina che ho primo chiamato i sovrani del mondo ad esempio un'Europa fondata soltanto sul concetto di governance un sistema cioè la governance che per Foucault è più efficace è più efficace della sovranità quindi il punto di Foucault fa un discorso che è essenzialmente liberale cioè con la governance entriamo in un modo di gestire le popolazioni più efficace eccetera la governance va bene unicamente quando si gestiscono una serie di questioni che riguardano la distribuzione delle risorse la allocazione delle risorse stesse la la politica finanziaria già con la politica economica già con la politica economica è più difficile perché quella richiede richiede una una l'ingresso all'interno all'interno del governo della forma di governo di componenti di decisioni politica sostanziale che non possono che essere potestative e questa è la cosa cioè aspetti che riguardano l'eguaglianza il diritto di eguaglianza l'intervento intervento contro l'accentuazione delle diseguaglianze è un po' la una cosa che può essere anche in qualche modo anche in qualche modo ricondotta un compito di governo ma non di governance come intesa dalla tradizione liberale e anche dallo stesso luogo cioè la la aveva detto bene prima pietro la la differenza tra dimensione ordinamentale e dimensione potestativa mi dispiace dirlo ma la dimensione potestativa è fondamentale a meno che se si lascia libero campo a una governance senza controllo potestativo sovrano non voglio parire troppo sovranista perché non lo sono ma però se si lascia libero campo a quello allora in qualche modo si sorvola su una serie di questioni sostanziali che richiedono degli interventi diretti dello Stato e si lascia libero campo al gioco al gioco della competizione della concorrenza quello è il punto fondamentale si pensa proprio ieri sera in televisione guardavo un programma una volta tanto la sera molto tardi ci sono dei programmi in televisione utili in cui si commentava come il secondo comma dell'articolo 3 della nostra Costituzione introduce una slittamento fecondo slittamento rispetto a quelli che dovrebbero essere i preliminari della Costituzione i principi fondamentali preliminari quando nel secondo comma introduce l'aspetto della rimozione degli ostacoli la rimozione degli ostacoli non può essere predefinita dai principi ma richiede un intervento potestativo per rimuovere gli ostacoli e quindi un elemento sostanziale di sostanza che in qualche modo nel cuore dei principi fondamentali introduce l'esigenza di una politica sostanziale potestativa questo è un punto essenziale con la sola governance questo non si può fare questa è l'idea però può darsi adesso non ho presenti le diciamo le ultime posizioni della nostra amica e collega su questo punto della governance ma non la mia idea la mia idea è che bisogna in qualche modo in un mondo in un mondo che si sta ristrutturando in questo modo in un mondo in cui vi è una 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 sorta di di stridente coabitazione fra la la dimensione la dimensione della della sovranità e della territorialità e la dimensione e la dimensione della del mercato globali della globalizzazione dei poteri finanziari globali ecco in questa situazione io credo che la il concetto di di governance sì che è diverso ovviamente della governamentalità fucoltiana però il concetto di governance ma anche il concetto di governamentalità non ci danno a mio parere una chiave adeguata per affrontare il problema grazie grazie tantissimo Giacomo ora se c'è qualcuno che vuole fare brevi interventi di richieste di chiarimento osservazioni tutto è brevi è il momento c'è qualcuno se in attesa che qualcuno pensi a qualcosa su cui ulteriormente potete riflettere vorrei fare io una domanda a Pietro Costa anzi due una riguarda la la possibilità che lui ritorni su quella su quelle cose a cui ha accennato e che a me paiono interessantissime la grande contraddizione che pervade ma sotterraneamente però tutto l'ottocento tra i principi individualistici che si ereditano dall'illuminismo e questa insorgenza della tematica della nazione che è per definizione diversa è molto diversa quindi potrebbe essere una contraddizione in un certo senso anche feconda per esempio io da bambina alla mia epoca quando ero all'elementare alla nostra epoca avevamo il sussidiario dove studiavamo storia geografia e le altre materie ero molto ero già assolutamente contraria alla guerra quindi ero molto perplessa su Giuseppe Mazzini e soltanto molto dopo quando sono diventata grande nel rapporto per esempio stretto con Ciampi ho scoperto il Mazzini delle scuole operaie della trasmissione di grandi idealità attraverso un esercizio pedagogico che non era necessariamente anzi era volto all'opposto dell'alimentazione degli istinti aggressivi della disposizione della guerra quindi gli chiederei di tornare su questo e un altro aspetto che riguarda al tempo stesso anche Giacomo le vostre due bellissime come sempre estremamente stimolanti relazioni riguarda l'Europa e il fatto che forse possiamo maggiormente considerare insieme al pluralismo giuridico che voi avete sottolineato anche qui dandoci spunti molto interessanti con la possibilità di risalire al Medioevo addirittura al nominalismo francescano come diceva Giacomo però in tutta la costruzione europea del dopoguerra sono state sempre conviventi più linee diverse di sviluppo del progetto europeo e per esempio quella che poi ha portato all'edificazione del cosiddetto modello sociale europeo che è qualcosa di molto caratterizzante anche dal punto di vista identitario che è stato messo molto a rischio dal neoliberismo dell'ultimo trentennio ma che lo abbiamo preservato e forse oggi abbiamo la possibilità di rilanciarlo alla grande con Next Generation Europe ma le appunto le realizzazioni le linee che hanno sostenuto molto questa questa linea dell'Europa sociale sono state conviventi a volte sono state sconfitte diciamo da una linea un po' più neoliberista che è venuta affermandosi soprattutto in relazione all'unificazione monetaria però sono state sempre presenti e oggi si tratta anche di far leva appunto su queste differenze e vedere se queste differenze non possono essere fuoriere di processi e di sviluppi più positivi proprio in relazione a quell'Europa politica di cui voi entrambi parlate adesso non riesco a vedere se c'è qualcuno che ha chiesto di parlare qualcuno chiede di parlare come si fa a segnalare di voler parlare e possono segnalare in chat volendo Ah ecco infatti qualcuno l'ha chiesto adesso non solo riuscire nessuno si è prenotato ecco ecco è Claudia Marco Lungo che chiede di parlare e poi vediamo facciamo parlare innanzitutto Claudia Marco Lungo buongiorno intanto ringrazio i relatori perché sono sicuramente stati hanno sollecitato numerosissimi spunti e io avrei piacere di porre due questioni su cui mi interesserebbe sapere come la pensano al professor Maramau gentilmente chiederei lei parlava prima quando ha illustrato l'idea del Leviatano 3.0 di questa doppia anima che persiste soprattutto per quanto concerne gli stati democratici di matrice occidentale e diceva da una parte l'idea medisoniana chiamiamola così e dall'altra la necessità questa promessa di partecipazione che può essere più o meno disattesa e io le chiederei se magari nell'ottica appunto di questa evoluzione di questa interdipendenza sullo scenario globale poi di fatto in cui gli stati si trovano ad operare se non trova che le organizzazioni internazionali possano dare sotto un certo aspetto una risposta o comunque possono rappresentare un momento di rottura o di cambiamento per queste idee di statualità e per quanto concerne invece la parte relativa alla promessa di partecipazione che ruolo secondo lei potrebbero giocare queste nuove manifestazioni o formazioni di società civile più o meno organizzata alla Mary Caldo per capirci perché possono io credo costituire un ulteriore fattore di complessità nell'analisi delle sfide diremo così di una nuova idea di statualità o delle persistenze e approfittando della gentilezza e della presenza appunto anche del professor Costa io chiederei un'altra cosa cioè laddove appunto lei parlava quindi ricollegandomi sempre a questo tema della necessità di imbrigliare i leviatani possono secondo lei e in che termini sia le organizzazioni internazionali nella ovviamente varietà delle loro configurazioni quanto queste formazioni di società civile più o meno strutturata rappresentare una modalità per imbrigliare non solo il leviatano statualistico ma anche queste nuove forme di potere che appunto prima quando si dicevano stanno stanno cambiando si stanno fissando in settori penso all'economia o al mercato finanziario che possono rappresentare un vulnus in quelli che sono le fondamenta democratiche del nostro del nostro sistema ovviamente nella prospettiva occidentale grazie ecco adesso facciamo parlare che hanno chiesto di porre delle domande Brigida di Costanzo e poi Ugo Pioletti salve buonasera mi sentite perdonatemi non accendo la camera perché altrimenti crolla la connessione sì io innanzitutto grazie mille ai relatori no in realtà mi chiedevo solo se fosse possibile accennare in qualche modo anche a quelle che sono state individuate come possibili alternative all'ordine mondiale attuale da White e poi dal suo allievo Bull grazie sì e Ugo Pioletti sì grazie non so se mi vedete io insegno diritto penale all'università di Camerino e molto telegraficamente innanzitutto mi complimento con entrambi i relatori per le splendide relazioni una breve domanda al professor Maramao lui faceva riferimento alla interessante teoria della formazione della comunità attraverso la stampa e quindi attraverso una lingua comune in un territorio milioni di persone distanti tra loro che non si conosceranno mai però hanno una lingua comune quindi si crea questa coinè si crea questa comunità e condivido pienamente l'aspirazione a un'unità politica europea e mi pongo e pongo la domanda noi abbiamo in Europa la torre di Babele dei tanti linguaggi bellissimi tutti quanti con grandissime tradizioni e della relativa chiaramente ci sono molti poliglotti in Europa ma credo troppo pochi e della difficoltà a creare questa coinè linguistica e di comunicazione per riuscire a portare avanti un'unità politica e grazie ecco allora io adesso darei la parola a Pietro Costa e a Giacomo Marramau non so in quale ordine vogliono parlare per delle brevi perché anche loro ho sentito la domanda della seconda signora che è intervenuta Brigida di Costanzo che aveva lei chiedeva se fosse possibile accennare alle possibili alternative all'ordine mondiale attuale quelle che sono state definite da White e dal suo allievo Bull no scusa da White io non lo conosco questo è il suo allievo Bull non conosco nessuno dei due personalmente però può essere la verità ma non ci chiamano White nel senso W H E eccetera T E T A White forse possiamo chiedere direttamente a Brigida se ci dice se ci chiede io ho scritto i nomi in chat così magari sono più chiari rispetto a come posso pronunciarli sì grazie vediamo dove però che non riesco a trovare il suo non riesco a trovare la sua ah ecco Brigida Brigida di Costanza vediamo si chiamano Martin White e Ed ah sì ho visto ho visto Martin White non le posso essere di aiuto nel senso che non non conosco questi due signori vi ringrazio comunque tanto grazie allora chi 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 parla per primo Pietro ah sì ma sì Pietro può continuare il macomo come credi Pietro tu ho la tua gatta anche facciamo fare un intervento alla gatta dai quella è fondamentale se n'è andata non gli siamo piaciuti eh ma che vuoi fare eh eh con senso somnium è difficile il delusio bisogna fronteggiare delusioni Laura allora chi parte Giacomo tu no tu ah va bene allora tenterò di essere telegrafico innanzitutto con i tuoi grossi problemi quindi non mi sarà facile essere rapidissimo ma ci provo eh sì non c'è dubbio che tocchi un problema molto complesso storiograficamente che poi è in sostanza il rapporto fra fra le rivoluzioni del secondo settecento e eh l'eredità di queste rivoluzioni che nel corso dell'ottocento ehm è un'antitesi innanzitutto l'universalismo illuministico rivoluzionario di contro al dilagare del principio di nazionalità eh i diritti dell'uomo della rivoluzione francese di contro i diritti del cittadino caratteristiche dell'ottocento quindi c'è sicuramente questo salto di paradigma e domina nell'ottocento il paradigma dell'appartenenza eh sull'idea dei diritti riconducibili direttamente al soggetto come tale ehm questo ehm questo dominanza del paradigma dell'appartenenza e quindi del riferimento obbligato al allo Stato e alla nazionalità però riescono in qualche modo a combinarsi con la valorizzazione dei diritti innanzitutto i diritti classici del liberalismo libertà e proprietà e poi anche a rendersi compatibili con un processo di estensione di diritti nella direzione dei diritti di partecipazione in che modo avviene questo avviene giocando sul sul ruolo demiurgico dello Stato eh è lo Stato che decide eh di ehm attribuire ai soggetti eh sulla sua insin... sulla base della sua insindacabile decisione una rosa eh di diritti i diritti quindi si rendono compatibili anche all'interno del del paradigma statual nazionalistico ottocentisco con eh con l'idea di appartenenza e di nazionalità certo che eh manifestano l'evidente fragilità che eh rivelerà tutta la sua drammaticità con l'avvento dei regimi totalitari ovvero eh lo spazio dei diritti eh si apre la laddove il il potere dello Stato decide di autolimitarsi e di aprire quindi eh zone di autodeterminazione ai soggetti come lo spazio di autodeterminazione eh come lo spazio di autolimitazione dello Stato si apre si può tranquillamente chiudere tutto questo è affidato alla sua totale discrezione di qui il rovesciamento del rapporto tra Stato e diritti che costituirà uno degli elementi centrali del 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 costituzionalismo eh che parte con la seconda guerra mondiale eh secondo punto eh il problema del modello sociale europeo dei diritti sociali nel nel quadro dell'Unione Europea e anche questo un tema a mio avviso fondamentale eh c'è i diritti sociali hanno stentato non poco di essere presi in considerazione nella lungo periodo di formazione dello spazio cittadino europeo eh è stato un lungo processo di avvicinamento che è divenuto franco e importante direi eh dopo Mastex pensiamo alla carta di Nizza che è tutto ciò che segue la carta di Nizza dove i diritti sociali sono certamente presenti il problema come tentavo di dire è che comunque senza un forte centro decisionale senza l'elemento del eh della dimensione potestativa a cui si riferiva anche Giacomo senza questo e senza un rapporto diverso fra stati nazionali e ordine giuridico europeo eh i numerassissimi riferimenti dell'Unione europea e dei documenti europei ai diritti sociali rischiano di essere lettera morta se non lettera morta certamente rischiano di essere indeboliti non soltanto per l'offensiva neoliberale che ha colpito tutto tutto l'occidente dell'ultimo ventenne l'ultimo trentennio ma anche per la debolezza strutturale dell'organizzazione europea che in sostanza continua ad affidare alle iniziative dei singoli stati la effettiva implementazione dei diritti sociali passo allora al secondo intervento a Claudio Marco Longo eh Laura procedo Laura mi senti mi sentite Laura mi senti sentite tutti Laura Laura è uscita di beh vabbè allora procedo con una risposta a Claudio Marco Longo eh ma in sostanza ehm tu ci rivolgi una una domanda abbastanza analoga sia a Giacomo che a me ed è una domanda che eh ci ehm ci induce a riflettere su sull'importanza della società civile nei confronti del potere io credo che eh che che sia molto importante tu dici imbrigliare il libriatano certo questo è un aspetto è un ehm è un ehm è un'esigenza che la società civile può avere nei confronti del potere politico c'è anche un'esigenza ehm complementare non solo imbrigliare il il libriatano ma ottenere prestazioni specifiche dal libriatano eh cioè ottenere che effettivamente il libriatano o comunque eh il detentore della qualche sovranità continui a sviluppare a svolgere quella funzione protettiva eh a cui ci riferivamo e quindi sì certo eh i diritti eh non sono mai regalati dal dal centro dal centro dei poteri ai soggetti sono stati storicamente sempre richiesti ottenuti in un processo conflittuale ecco a me sembra fondamentale ribadire questa eh messo genetico e funzionale fra mh fra conflitto e diritto e quindi eh avremo diritti nella misura in cui eh parti consistenti della società civile riusciranno a a legittimare le loro richieste e a stabilire un rapporto eh vincente nei confronti della controparte eh istituzionale il problema è che eh se questa eh logica conflitto diritti e ampliamento del della rosa dei diritti è stato caratteristico delle lotte sociali ottono-novecentesche eh eh grazie a una forte presenza di eh movimenti e organizzazioni attive nella società civile eh il rischio che noi abbiamo di fronte a mio avviso è quello di una polverizzazione delle iniziative della società civile un indebolimento progressivo di istanze partecipative e di lotta per i diritti eh rinvelibili nell'odiera società credo che ora la parola passi a te Giacomo sì ma Laura è scomparsa non ho capito Laura è scomparsa come la mia gatta allora eh sì intanto una risposta alla signora Marco Lungo eh io parto da una da una idea che eh problema della democrazia oggi eh si può affrontare all'inizio perlomeno inizialmente con una con una lotta contro la presunzione di una democrazia immediata l'idea della disintermediazione la disintermediazione è un vero rischio perché sta a rischiare proprio determina come effetto la eh creazione eh di una sorta di cittadella democratica assediata poi da movimenti di protesta populisti inevitabilmente assediata da movimenti di protesta populista e una cittadella visualizzata in un modo credo non del tutto scorretto dai movimenti populisti come individui lo diceva più di un secolo fa Max Weber chiusi nella cittadella che vivono di politica ma non per la politica io penso giovani i giovani che hanno protestato come si chiamano le sardine hanno detto ma insomma ma è possibile che non che dobbiamo muoverci noi ragazzi andare in piazza noi ragazzi perché questi qui non vivono per la politica ma vivono di politica hanno detto una cosa molto simile a quella che diceva il grande Max Weber se come dire il numero di coloro che fanno politica in varia in varie forme come amministratori dei comuni delle regioni oppure oppure come parlamentari governi sotto governi vari eccetera se se costoro non danno la impressione chiara ma non soltanto un'impressione non dimostrano di lavorare per la politica ma invece mostrano di vivere di politica questo mi pare il problema molto serio è un fattore è un fattore importante secondo me ovviamente poi a questo si aggiungono del dei fattori anche molto più molto più pesanti cioè la la democrazia è organizzata in questo modo con queste forme di rappresentanza e sembra meno capace di far fronte alla crescente complessità del mondo contemporaneo e anche degli eventi che accadono nel mondo contemporaneo anche anche eventi come questo della pandemia che avremmo potuto prevedere che sapevamo ci sarebbe stato non si è fatto nulla in politica sono cose quindi anche con delle con degli effetti di una gravità nel nostro paese sta scomparendo una generazione tutta una generazione che ha contribuito a costruire la Repubblica nel nostro paese con i morti tra i morti non so e comunque quindi è un incapacità di fronteggiare la complessità della io penso che ci troviamo davanti a a una situazione di interregno famosa frase di Gramsci nei quaderni del carcere io l'ho adoperata già nei miei lavori sulla globalizzazione vent'anni fa prima che poi Bauman invece la mettesse al centro di molte sue riflessioni eccetera a mio parere anche un po' affascinanti ma non condivisibili questa idea della modernità liquida andasse a vedere i nuclei di potere che ci sono nel mondo oggi altro che liquidi altro che liquidi comunque sia in interregno ci sono due due aspetti di quella frase di Gramsci il primo ha colpito per la sua carica di suggestione quando il il vecchio muore e il e il nuovo stent a nascere si si verificano fenomeni morbosi come allora tutti tutti anche amici storici mio amico Donald Sassone sintomi morbosi titoli non è quello bellissima frase quella è la fenomenologia che Gramsci ma la diagnosi è un'altra l'aspetto patogenetico di quella frase sta altrove viviamo viviamo un tempo di crisi di autorità e in un tempo di crisi di autorità chi governa si limita a dominare perché è incapace di dirigere si limita a dominare la tragedia dell'epoca mondo il mondo contemporaneo ma soprattutto degli anni che stiamo vivendo non è come dice Foucault questo potere che può fare qualunque cosa che c'è sempre quanto più sembra debole tanto più ci frega ci imbroglia no la tragedia quella in fondo è confortante dice che c'è un potere che fa tutto stiamo tranquilli la tragedia vera è l'impotenza del potere di un potere privo di autorità perché può fare qualunque danno ogni danno il potere impotente è un potere o repressivo o privo di freni insurrezionale contro le sue stesse istituzioni come è accaduto nel caso nel caso del Capitol Hill attack no attacco al Capitol Hill quindi è un po' questo allora qui il punto in questa fase di interregno l'unica maniera è secondo me cominciare a incominciare a a pensare a a una società lei diceva prima una società civile che si organizza forme di cittadinanza attiva bisogna riprendere a impegnarsi su questioni socialmente politicamente rilevanti anche a prescindere dalla mediazione dei partiti perché quella è quella è una è di fatto una disintermediazione ma ve lo penso ve lo posso garantire io io ho molti rapporti con persone che fanno politica in una serie di ti danno ragione su tante cose e dopodiché provi 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 a a a tradurre questi colloqui infatti operativi no loro ritornano all'interno dei loro problemi si richiudono nella cittadella dei loro problemi guardate bene è inutile illudersi sia in America che in Europa non è che il ritorno di Biden che figuriamoci e soprattutto di Kamala Harris mi fa respirare mi 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 è una cosa bellissima questa che però non illudiamoci che una volta che è andato via un personaggio come Trump non ci saranno nuovi leader videocratici digitali populisti che ritorneranno a presentarci la sventura sotto le sembianze della salvezza e questo è l'inganno dei certi leader che presentano una sventura nelle sembianze della salvezza questa è la cosa noi arriviamo noi e vi risolveremo una cosa folle hanno procurato semplicemente guai questo è il punto però ecco qui il punto fondamentale io penso che bisogna l'unica cosa e lei ha ragione l'unica cosa è un'iniziativa un'iniziativa che parte dal tema cittadinanza attiva ad esempio il mio vecchio amico oltretutto membro del comitato dei garanti della fondazione in cui mi trovo adesso la fondazione Basso Giovanni Moro figlio di un grande che ci è stato sottratto Giovanni Moro ha messo su iniziativa di cittadinanza attiva da tanti anni e cercano ma anche movimenti giovanili questa è la cosa fondamentale fondamentale in qualche modo far sentire la propria voce in tutte le sedi quella è importante in tutti quanti luoghi pubblici ci occorre far sentire cioè sapendo che che l'unico modo è per rompere questa questa situazione di stallo di interregno della disintermediazione e agire e cominciare ad agire in proprio come cittadini il professor Ugo Pioletti dico una cosa anche a lei perché allora lei diceva una cosa sostanzialmente che è vero che le nazioni si sono formate le nazioni si sono formate attraverso la la stampa e quindi la lingua diventa fondamentale questo è un problema vecchio per l'Europa un problema antico per l'Europa perché perché la ma a me è capitato già di scriverlo tanti anni fa e non c'è che una strada per comunicare un tempo si comunicava con il latino anche se Machiavelli e Hobbes scrivevano sia da Machiavelli a Hobbes si scrive sia in latino che nella lingua Baudin non si rifiuta di scrivere in in latino il trattato sulla repubblica e dice voglio scriverlo in francese nel volgare francese perché voglio che tutti i francesi siano in grado di leggermi e di capirmi eccetera a me non fa paura la pluralità linguistica noi saremo costretti a parlare a parlare nei nei convegni nelle sedi internazionali in quello sgangherato esperanto che è l'inglese esperanto sgangherato molto lontano parlo per me ovviamente il mio non sgangherato esperanto il tedesco è la mia seconda lingua non l'inglese però è una lingua che ci mette tutti in comunicazione qual è la lingua dell'Europa Umberto Eco rispondeva alla lingua dell'Europa e la traduzione è sempre stata la traduzione sin dal mondo antico le traduzioni dal greco e il latino quelle sono state fondamentali è sempre stata il luogo oppure dal latino delle lingue volgari e poi dalle lingue volgari che si traducono tra di loro questo è fondamentale io penso che è questo nel frattempo l'inglese statunitense è cambiato radicalmente è cambiato radicalmente trasformato e meticciato dal lavorato ai fianchi dal black english dall'hispano english eccetera al punto tale che molti stati americani sono luoghi senza lingua privi di lingua si riesce più a capire come come con tante forme di inglese meticciate e questo è in qualche modo inevitabile quindi non non mi preoccuperei più di tanto perché l'Europa l'Europa deve andare avanti con l'inglese come lingua veicolare e traducendosi perché è un ottimo è un ottimo compito io penso che la traduzione oggi in generale la traduzione sia debba diventare un progetto un progetto diciamo politico in senso pieno no? la traduzione nel senso che è l'unico modo che noi abbiamo per comunicare anche su anche su scala globale pur sapendo che naturalmente in ogni traduzione come il genio il genietto di Sofia Coppola ci dice c'è sempre un elemento essenziale che rimane lost in translation e pur tuttavia anche se sappiamo questo che l'essenziale forse sarà perduto dobbiamo tuttavia tradurci non so se ma la nostra maestra di cerimonie è scomparsa ci ha lasciato soli guarda Giacomo era rientrata sì eccomi ma che è successo a Laura no mi è successo che mi si era scaricato qualcosa poi ho ricaricato e sono rientrata no dunque direi che vi ringraziamo tantissimo chiudiamo qui per una per un incontro online è durato molto quindi abbiamo avuto una grossa pazienza ma anche una grossa sollecitazione siamo tutti convinti che è stato utilissimo e ci vediamo a febbraio nel prossimo incontro grazie tantissimo a Pietro grazie a Giacomo e grazie a tutti voi che avete partecipato che avete seguito dall'inizio alla fine siamo molto contenti e a presto arrivederci arrivederci voglio salutare Giacomo e Pietro ciao 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 la prossima ho una domanda ma me racconservo grazie a tutti Grazie.